Come essere una donna sensuale e affascinante dopo i 40? Accominciamo. Innanzitutto, che cos'è una donna sensuale e affascinante? È una donna elegante, è una donna curata, è una donna fine, è una donna non volgare, è una donna sicura di se stessa, è una donna che non vuole apparire perché è. È una donna che non ha bisogno di aprire la macelleria per farsi guardare, perché quella donna, basse che passa, pur se è vestita con un jeans, tu ti giri e la guardi perché si vesse della sua personalità. Accominciamo. Ci sono pochi trucchi che possono rendere una donna affascinata anche tutti i giorni, che tu dici, mi muovo tutti i giorni, posso fare questi, tengo che fare, devo correre avanti e indietro, è chi me gli mette, capisce. Allora, la prima cosa sicuramente è curare i capelli. Mi rendo conto che non tutti possono andare dal parrucchiere tutte le settimane, però diciamoci la verità, è questione di volontà. Ora si vendono questi diffusori, queste piastre, che bene o male, il capello può stare sistemato. Non sto dicendo che vi dovete fare le acconciature per andare a ballare, ma perlomeno avere un capello curato, pulito, perché vi potete mettere pure un vestito più bello romuno, ma se hai tenuto il capello in sapato, avete capito, proprio di valore. Seconda cosa sono le mani. Le mani devono essere sempre curate, veramente. Però la mano deve essere una mano gentile, una mano fine. Vedete, quando si parla, si gesticola, no, per accompagnare le parole a volte, le mani, io, come diceva Mary Monroe, mi piacciono corte, rotonde e rosse. Perché il rosso è un colore che attira, è un colore di passione, un colore di sensualità. E portarle lunghe appuntite danno una nota di volgarità. Basta poco, dall'essere sensuali al volgare. Terza cosa, le scarpe. Sicuramente indossare delle scarpe che siano, come dire, adatte alla nostra età. Lo so che molti di voi trovano comodo le ballerine, che molti di voi trovano comodo lo zeppone, mamma mia, esagerà. Però la camminata deve essere fine, il portamento deve essere elegante. Non mettere i tacchi, se non le stavate portate, avendo parito il dottor house, dopo che uscite dall'ospedale. Però un tacchetto piccolo, quadrato, che dà quella nota di eleganza, quella nota di femminilità, anche se avete un semplice jean. Se avete tutto questo, allora vi manca solo l'ultima cosa, il linguaggio. È inutile che magari ci facciamo i capelli belli, un trucco bello, magari abbiamo anche solo un jeans e una maglia, perché già se avete il capello, o il trucco, anche se non proprio ci mucchiare, si esagerare, ma un trucco comunque di una donna curata, il rossetto, il mascara, le mani curate, le scarpe curate, il linguaggio. Il linguaggio è importante. Cioè non potete stare tutte sistemate, e poi quando state al semaforo e uno vi taglia la strada, incominciate con, eeeh, che sta a combinare. Là si trasforma tutto ciò che avete fatto, diventa vano, avete capito? Quindi anche il linguaggio deve essere fine, deve essere elegante, deve essere di una donna di 40 anni che non perde le staffe, perché ha avuto un'altra donna. Perché ha avuto un'altra donna?